Per poter utilizzare le funzioni interattive del videoproiettore è necessario installare il driver. Il driver è disponibile sia per ambiente Windows che per ambiente Macintosh ed è fornito all'interno del CD insieme al videoproiettore. L'installazione è semplicissima perché c'è un applicativo di installazione automatica. Una volta fatta l'installazione è necessario calibrare l'area di proiezione in modo tale che la penna riconosca esattamente il punto in cui si trova. È una procedura estremamente semplice, è disponibile in due modalità, normale e avanzata, e funziona in questo modo. Eseguire la calibrazione va bene. A questo punto compare sullo schermo un puntino nero che io vado a selezionare esattamente nel centro in modo tale che il sistema riconosca esattamente la posizione della mia penna. Questa operazione viene ripetuta fino a completare tutta la schermata bianca. A questo punto il videoproiettore è disponibile per le funzionalità interattive.